Musica Bentornato Cutler, bentornata Terminiamo la descrizione del programma Esplora Risorse Andiamo ad individuare il menu che si genera cliccando con il pulsante destro del mouse su un file o su una cartella Il numero di opzioni potrà variare in base al tipo di programmi, al numero di programmi che hai installato all'interno del sistema operativo Comunque anche c'è da dire che tali menu potranno essere personalizzati da te anche grazie all'utilizzo di programmi di altre aziende che volendo potrai installare Come puoi vedere da questo menu che si genera hai diverse opzioni che possono variare da sistema operativo a sistema operativo Ma comunque in linea di massima quelle che potrai trovare sono apri o modifica che ti permetterà di aprire il file per visionarlo o apportare delle modifiche Oppure un pulsante denominato Riproduci che naturalmente porterà in visione il file multimediale tramite il lettore che è predefinito C'è un pulsante chiamato Mostra che in pratica visualizza il file o i file in formato Presentazione Poi c'è il pulsante stampa che abbiamo già visto permette di inviare il file o i file selezionati direttamente alla stampante qualora fosse accesa Quindi potrai ottenere una stampa senza aprire il programma predefinito Comprimi o decomprimi in pratica utilizza un programma di archiviazione che hai installato e ti permette di scompattare la cartella o il file selezionato Ancora l'opzione scansiona ti permetterà di eseguire un controllo del file, dei file o delle cartelle grazie al programma antivirus che hai installato all'interno del tuo sistema operativo Oppure c'è il pulsante Apricon che ti permetterà di aprire il file o i file con un programma dato e scelto da una lista che ti si presenta Quindi alternare la visione del file e differenziarlo dal programma che è naturalmente predefinito per l'apertura del file in questione Il pulsante Invia A ti permetterà di inviare il file ad alcuni programmi, alcune cartelle o alcuni dispositivi collegati al computer Come ad esempio harddisk esterni o pendrive Il pulsante Taglia ti permetterà di togliere uno o più file o cartelle da una posizione attuale per poi in seguito spostarlo in un'altra posizione o in un altro dispositivo Il pulsante Copia permette di creare una copia momentanea di uno o più file o cartelle che poi copierai in un'altra cartella, in un'altra zona, in un altro dispositivo Altro pulsante è Incolla che è la naturale conseguenza di un'azione precedente di taglia o copia che permette e quindi realizza proprio l'atto di copiatura e quindi duplicazione dei file o delle cartelle che hai precedentemente selezionato nella nuova posizione o nel nuovo dispositivo Crea collegamento permette naturalmente di creare un collegamento al file o alla cartella o al programma in questione all'interno della cartella dove ti trovi in quel momento Sarà poi tua cura naturalmente spostarlo da lì e portarlo ad esempio sul desktop ma già hai visto alternative di come creare un collegamento Il pulsante Elimina naturalmente invierà nel cestino uno o più file o cartelle che avrai precedentemente selezionato Il pulsante Rinomina cambierà nome al file o alla cartella che hai selezionato Il pulsante proprietà apre un nuovo scenario perché permette di farti visionare delle caratteristiche, altri parametri e tipologia di uno o più file o cartelle che hai selezionato A margine di questa lista appena evidenziata ti indico subito che se hai la necessità di selezionare un file, una cartella o anche più file o più cartelle Sarà sufficiente cliccarci sopra una alla volta ma per selezionare più di un elemento che non è adiacente Durante questi clic dovrai tenere premuto il tasto CTRL presente sulla tastiera e rilasciarlo solo dopo che hai finito di selezionare gli elementi Se invece devi selezionare un numero di elementi ma tutti adiacenti sarà sufficiente cliccare ad esempio sul primo, regarti sull'ultimo E prima di cliccare premere il tasto maiuscolo, quindi quello con la freccia rivolta verso l'alto e avrai selezionato tutta la sezione Alternativa, sarà sufficiente spostarti da una zona pulita della lista sul file e sui file spostando il mouse e vedrai cambiare colore i file che riuscirai a selezionare Infatti noterai che cambieranno colore, quindi saranno evidenziati normalmente di colore blu chiaro Lo stesso mouse trascinando uno o più file o cartelle sarà in grado di realizzare delle funzioni di duplicazione o di spostamento degli elementi selezionati a seconda di come e dove si esegue Mi spiego Se trascini gli elementi tra due dispositivi diversi, quindi ad esempio tra il disco rigido ed una pendrive Questa azione porterà ad una duplicazione del file che avrai trascinato Mentre se eseguirai la stessa operazione all'interno dello stesso dispositivo, quindi all'interno di due cartelle anche diverse ma dello stesso disco rigido o della stessa pendrive Se invece trascini gli elementi tra due dispositivi diversi oppure all'interno dello stesso ma durante edalazione premi il tasto maiuscolo, quindi quello con la freccia rivolta verso l'alto Ciò sposterà sempre gli elementi, quindi non eseguirà una duplicazione tipo copia e incolla Sarà uno spostamento puro Se invece trascinando gli elementi tra due dispositivi, disco rigido o pendrive oppure all'interno dello stesso dispositivo ma esegui questa opzione di trascinamento Tenendo invece premuto il tasto CTRL, ciò realizzerà sempre una duplicazione, quindi una sorta di copia e incolla dell'elemento o degli elementi selezionati Veniamo adesso alla proprietà degli elementi, quindi se clicchi con il pulsante destro del mouse e generi un menu, uno dei pulsanti si chiamerà proprietà La funzione proprietà del menu generato in pratica mostra una nuova finestra in base al tipo di elemento o elementi selezionati In questa nuova finestra evidenzierai alcune caratteristiche di quella data specifica selezione Se ad esempio vai a visionare l'opzione proprietà di un file immagine o di un video, comparirà una finestra che avrà diverse sezioni Che evidenzieranno alcune informazioni tra cui il nome del file che potrai evidenziare in questa sezione Il tipo di file, quindi la sua natura, il suo genere che ti evidenzia se è un file immagine, un file video, un file documento Subito sotto noterai il programma predefinito per aprire questo determinato file e lo potrai anche cambiare se tu vuoi Potrai vedere il percorso per raggiungere il file qui evidenziato Oppure le dimensioni in kilobyte, megabyte o gigabyte del file o dei file o delle cartelle che avrai selezionato Anche le date varie che sono relative a data di creazione oppure l'ultima modifica apportata al file oppure la data dell'ultimo accesso al file Ancora attributi che ti permetteranno di rendere il file in sola lettura oppure nascondere il file alla visione di Esplora Risorse Altre opzioni, come puoi vedere ci sono degli ers e linguette, altre opzioni sono quelle delle autorizzazioni In pratica definiscono chi ha l'accesso e cosa può eseguire una volta avuto accesso a quel file Quindi potrai consentire la sola lettura, lettura scrittura o negare entrambi queste opzioni Nella sezione Dattagli c'è un numero abbastanza ampio di informazioni che potrai evidenziare grazie alla barra scorrimento In questo caso, dato che abbiamo selezionato un file video, hai indicazioni sulla durata, le dimensioni in altezza e larghezza del fotogramma La velocità dei dati e la velocità in bit complessiva ed altri parametri relativi al file stesso Come potrai verificare tu? La varietà delle informazioni non è standard ma è molto ampia e soprattutto è utile per conoscere meglio e più a fondo Un determinato elemento che magari è un po' oscuro Senza far uso, questa è la cosa importante, a volte di installazioni improprie ed inutili Di programmi di terze parti per visionare dati che sono alla tua portata semplicemente grazie ad Esplora Risorse Oppure ai menu che si generano grazie al pulsante destro del mouse Sarà tua cura scovare con un po' di pazienza e una buona volontà tutte queste informazioni che puoi ottenere grazie al programma Esplora Risorse Prima di concludere però questa lunga carrellata di questo enorme e immenso programma ti indico un'ulteriore possibilità fornita Puoi aprire n volte il programma Esplora Risorse in base alle tue necessità Quindi non è limitata l'apertura soltanto una volta del programma Esplora Risorse Ma potrai aprirlo n volte a tuo piacere per ottimizzare alcune operazioni Come potrai farlo? Nella barra delle applicazioni trovi il pulsante naturalmente Esplora Risorse La prima volta sarà sufficiente cliccarci sopra Ma dalla seconda o terza volta in poi in base a quante volte vuoi aprire il programma Esplora Risorse Potrai cliccare su questo pulsante con il pulsante destro del mouse Scusa la ripetizione Si aprirà questo menu e dovrai cliccare di nuovo sul pulsante denominato Esplora Risorse Si aprirà quindi di nuovo il programma fin tante volte che tu vorrai Una volta che si sono aperti diversi programmi Esplora Risorse Quindi avrai diverse finestre potrai ridimensionarli oppure affiancarle o impilarle come ormai già hai scoperto nella lezione numero 62 Questo ti permetterà di gestire al meglio il copia e incolla quindi lo spostamento o la visione di più cartelle Di più sezioni, di più dispositivi contemporaneamente ed ottimizzarne quindi la gestione Infatti potrai spostare o copiare da una sezione all'altra direttamente tramite queste due o più finestre L'importante è non esagerare nella creazione di queste finestre di Esplora Risorse Per non incasinare troppo il desktop e creare un bel pasticcio naturalmente Anche perché oltre un certo numero difficilmente riuscirai a comprendere come gestire l'ordine delle cartelle E trasferire i file da una sezione all'altra Allora Goodlier, abbiamo di nuovo il nostro desktop, avviamo Esplora Risorse e cominciamo ad interagire con il pulsante destro Qui abbiamo la solita lista di file che abbiamo deciso di selezionare Andiamo ad esempio a cliccare con il pulsante destro sulla prima lezione Si genera il menu che permetterà tra le altre cose di riprodurre il file Cosa che potremmo comunque fare semplicemente cliccando due volte rapidamente sullo stesso Oppure selezionare in maniera alternata i file premendo il tasto CTRL Oppure ancora selezionarne un gruppo adiacente tenendo premuto il tasto maiuscolo Quindi quello con la freccia rivolta verso l'altro sulla tastiera Oppure ancora posizionarsi in una zona pulita e selezionare in questo modo i file adiacenti Una volta che hai deciso di selezionarne più di uno Puoi comunque generare un menu che varierà naturalmente rispetto a quello che abbiamo precedentemente selezionato Le opzioni come ripeto possono variare in base al tipo di programmi che hai installato Sul tuo sistema operativo troverai verosimilmente un programma di archiviazione che ti permetterà di gestirne una compressione o decompressione Quindi compattare e o scompattare i file per una migliore gestione delle dimensioni in caso di invio dello stesso Potrai effettuare una scansione grazie al programma antivirus Aprire il programma in maniera alternata al programma predefinito che in questo caso è VLC O comunque se non fosse presente in questa lista cliccando sul pulsante programma predefinito Potrai o sceglierlo se eventualmente è già presente qua Oppure andarlo ad individuare all'interno del sistema operativo grazie al pulsante sfoglia Dopodiché selezionando o deselezionando questa sezione potrai impostare o meno l'apertura di questo file Con quel determinato programma che avrai deciso di far diventare come predefinito Andiamo a vedere altri pulsanti Come puoi vedere dipendono molto dai programmi che hai installato Quindi non andrei a spiegare quelli specifici in quanto saranno certamente diversi dai tuoi Invece in via A sicuramente lo troverai Ti permetterà di inviare il file, la cartella o i file che hai selezionato O a un dispositivo esterno o periferico al computer Oppure ad esempio ad un'altra cartella Oppure inviarlo via fax per posta elettronica Oppure creare un collegamento direttamente sul desktop Clicchiamoci sopra e andiamo a vedere se effettivamente è presente il collegamento al file della lezione numero 1 Parcheggiamo e troviamo proprio il collegamento al file in questione Cliccandoci sopra naturalmente si aprirà il file stesso Andiamo avanti nella descrizione C'è il pulsante taglia che permetterà di eliminare il file in questione da questa zona Ed inserirla in un dispositivo periferico al computer Oppure in un'altra cartella Facciamo un esempio E lo spostiamo proprio sul desktop Con il pulsante incolla Il file verrà trasferito e quindi cancellato da questa posizione Altra opzione è copia Copia al contrato d'Italia Permette di effettuare una replicazione di questo file Sempre sul nostro desktop Quindi avrai la presenza della lezione numero 2 Quindi del file che rappresenta la lezione numero 2 In due sezioni del computer Altra opzione crea collegamento Creerà un collegamento direttamente all'interno di questa cartella Non avendo molto senso naturalmente dovrai toglierlo da qua E velocemente spostarlo in qualsiasi altra sezione del computer Cancelliamo il collegamento in quanto non ci serve E proseguiamo Il pulsante elimina Non farà altro che inviare il file nel cestino E attuerai una cancellazione momentanea Ricordati che puoi sempre ripristinarlo Andiamo avanti nella descrizione delle funzioni Il pulsante elimina non farà altro che Darti la possibilità di cambiare il nome del file che avrai selezionato Infine il pulsante proprietà ti permette di visionare altre opzioni Il nome del file Il tipo di file Se è un file video, audio, se è un documento, una foto e quant'altro Il programma predefinito per aprire questo file Ma lo puoi ben cambiare come abbiamo visto precedentemente Il percorso per raggiungere questo determinato file Le dimensioni dello stesso La data di creazione La data dell'ultima modifica O dell'ultimo accesso al file Altri pulsanti sono Sulla lettura Se è un file di documento Ti renderà impossibile la modifica allo stesso Se non eseguire un successivo salvataggio per effettuare le modifiche Oppure nascondere il file al programma Explorer Resources Vediamo cosa accade Con il pulsante applica Vedrai scomparire dalla visione il file selezionato Ora lo ripristiniamo per terminare la descrizione Altre opzioni sono relative ai pulsanti avanzate Che ti permetteranno di gestire alcune impostazioni Che per il momento tralascerei Cosa invece importante Potrai impostare chi può interagire con lo stesso Se lasciare libera la visione a tutti Oppure meglio Lasciare libero accesso alla lettura Alla modifica a tutti gli utenti Oppure gestirne l'utilizzo Grazie a questo pulsante Che ti permetterà di selezionare Chi può vedere cosa in pratica Il pulsante dettagli Grazie alla barra scorrimento Ti potrà far visionare altre informazioni Del file stesso Come in questo caso la durata Le dimensioni in termini di pixel La velocità dei dati E bit complessiva Parametri relativi all'audio E ancora altre informazioni Che potrai scegliere e visionare Di volta in volta tu stesso Per il menu proprietà Terminiamo qua Ora un'altra opzione Che ti può tornare utile Attualmente questi file Si trovano all'interno di una partizione Del disco rigido Se premendo il pulsante sinistro del mouse Esegui un trascinamento Di questo file In un'altra zona Del computer Quindi in un'altra partizione In questo caso sul desktop Noteremo che Avremo realizzato Una duplicazione Quindi l'esempio Del copia e incolla Se lo spostamento del file Lo esegui all'interno Dello stesso dispositivo Ciò trasferirà Quindi sposterà Il file Da una sezione Del disco rigido Ad un'altra Quindi supponiamo Di spostare Il file Guida computer Lezione 3 Che si trova In questa cartella In quest'altra Vediamo che Il trascinamento Produce Lo spostamento Fisico Del file Cliccando sopra Lo troviamo Proprio in questa zona Se l'operazione Di spostamento Di trascinamento Lo esegui Premendo i tasti Maiuscolo O control Cambieranno alcune cose Se vai a trascinare Il file O sul desktop O all'interno Di uno stesso Disco rigido Otterrai sempre Lo spostamento Vediamo cosa accade In questo caso Il file Guida computer Lezione 4 Sarà stato Spostato Sul desktop Proviamo la stessa cosa Con il file Successivo Spostandolo Nella cartella Precedente Quindi Come puoi vedere L'azione Di trascinamento Premendo il tasto Maiuscolo Porterà sempre Ad uno spostamento Se invece Esegui Il trascinamento Premendo il tasto Control Ciò Porterà Sempre Ad una Duplicazione Sia se avviene All'esterno Della Partizione Sia se avviene All'interno Dello stesso Disco rigido Quindi All'interno Della stessa Partizione Infatti La lezione 6 È presente All'interno Dello stesso Disco rigido Quindi è stata Eseguita Una copia E È presente Anche all'esterno Di quel disco rigido Quindi in un'altra Partizione Esercitandoti Potrai Capire meglio Questa funzione Ora Veniamo All'apertura Di altri programmi Esplora Risorse Ti ho detto Che La prima volta Che clicchi sul pulsante Otterrai L'apertura Del programma Se invece Devi aprire Un'altra volta Il programma Esplora Risorse Sarà sufficiente Cliccare Con il pulsante A destra del mouse E selezionare Di nuovo Esplora Risorse Dopodiché Potrai Come già sai Affiancare Le finestre O impilarle In modo da Poter Gestire meglio Il trascinamento Da una sezione E l'altra Quindi uno spostamento Un copia e incolla Da una sezione E l'altra Del tuo computer Con più facilità Attenzione Nello spostamento Perché puoi perdere Facilmente I riferimenti E soprattutto Non aprire Troppe finestre Quindi troppe volte Il programma Esplora Risorse Altrimenti Ti sarà difficile Tenere traccia Di ciò Che stai facendo Bene Dalla prossima Lezione Accederemo Ad una nuova Sezione Del sistema Operativo Ora come sempre Un forte saluto Ciao a presto Da Gallo E dalla prossima Saga E Ciao a presto Grazie.